Prima di cominciare il video di oggi vi faccio notare che ho un brufolo sulla fronte, quindi chi inventerà la battuta più divertente riceverà un cuoricino nei commenti, mi raccomando. Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G e nel corso della mia vita da PC Master Racer ne ho provate tantissime di ventole. Le ventole LL di Corsair, le Rise Aurora di Alphacool, le ventole di Fractal Design, ho provato le ventole di NZXT, le Corsair ML, ventoloni da 200mm, da 140mm, ho provato veramente un sacco di roba, ma non ho mai provato le ventole di Be Quiet, o meglio non avevo mai provato le ventole di Be Quiet fino a quando Be Quiet appunto non mi ha mandato il Dark Rock Pro 4. A un certo punto mi hanno detto, ma vorresti provare le nostre Light Wings, che sono praticamente delle ventole di fascia medio alta, perché hanno qui sulla scatola la scritta Essential, quindi non sono le ventole più premium che Be Quiet ha, mi hanno chiesto se volessi provarle, perché sono delle ventole che sono più indicate per una build tutta RGB, avendo un bellissimo anello RGB decisamente elegante rispetto ad altre ventole che ho provato, e io ovviamente ho accettato. Ora, sinceramente parlando, c'è una tabella come avete visto dai video sul lato della scatola, però fondamentalmente quello che Be Quiet mi ha assicurato è che siano delle ventole buone, non ottime, ma buone comunque, per i radiatori. Infatti io ho montato sei ventole, quindi sei Light Wings, sui radiatori che vanno a raffreddare, questo è un microfono, la scheda video e il processore, sapete nel loop che ho fatto qualche tempo fa, ci sono i video comunque sul canale, potete andarli a vedere. Le ho sostituite alle ventole stock di Alphagool, le Rise Aurora, e c'è da dire che ci sono delle differenze sia prestazionali e ovviamente sia per quanto riguarda la rumorosità, perché da un'azienda che si chiama Be Quiet, e cioè fa silenzio, stai quieto potremmo dire, io mi aspetto non delle performance ottime, perché sappiamo che l'hype distrugge solo alla fine le prestazioni di un prodotto, ma mi aspetto delle prestazioni buone. Vi posso dire che già così, in idle, il mio PC è praticamente inudibile, ora che è acceso. Prima c'era comunque il sibilo delle ventole, perché avendo sei ventole che vanno a far passare aria attraverso un radiatore, e quindi l'aria poi passa attraverso le feritoie del case, c'è comunque della turbolenza, si sentiva un leggero... Io adesso sento il coil whine della pompa del waterblock della scheda video. Quindi non c'è che dire, mission accomplished da questo punto di vista. Ho preso per voi però qualche dato, e c'è anche un video molto interessante sulla rumorosità. Ho preso per voi qualche dato, questo è il foglietto sempre dell'altra volta dell'undervolting, sì, la carta è molto importante, riutilizzatela, e ho preso per voi un pochettino di temperature, sia per quanto riguarda la CPU, sia per quanto riguarda la GPU. Questo perché? Perché le ventole vanno a raffreddare un loop di, appunto, CPU e GPU. Con le ventole stock, vi dico che in idle, con 1.25V sulla CPU, questo è tutto in idle, il processore era a 47.5 gradi e la scheda video a 41.2 gradi. Con le ventole di Be Quiet, attenzione, qui c'è qualcosa di molto interessante, la CPU prende, precisamente, 2 gradi di temperatura, arrivando a 49.5, ma la scheda video si raffredda di 2 gradi, arrivando a 39.2. Preciso, spaccato. C'è sempre un equilibrio? Sì, perché fondamentalmente abbiamo perso 2 gradi da una parte e li abbiamo presi da un'altra parte, quindi significa che o è cambiata qualcosa nella pressione statica delle ventole apposte sui radiatori, o non lo so. Ad ogni modo, sono temperature che comunque vanno più che bene. Su Warzone, con le ventole stock di Alphacool, la temperatura più alta raggiunta, sia da CPU che da GPU, è 66 gradi. Invece, cambiando le ventole e mettendo quelle di Be Quiet, la CPU è rimasta più fresca di 4 gradi. Certo, può darsi che la zona dove siamo atterrati non fosse proprio la stessa del primo test, ma fondamentalmente COD è un gioco che stressava davvero tanto la mia GPU. Quindi avere 62 gradi, comunque facendomi un bel giro di mappa, non è assolutamente qualcosa di male. E la temperatura della GPU era sui 67 gradi. Ok, benissimo, non c'è problema da questo punto di vista, perché sono delle temperature che fondamentalmente sono accettabili, perché siamo in estate e adesso le temperature cominciano a salire, quindi sapete com'è. Sì, effettivamente l'estate è un periodo davvero molto molto brutto per chi fa overclock. Adesso arriva il test bello, e cioè Cinebench. Su Cinebench io ho anche fatto un test di rumorosità. Ho scaricato un fonometro sul mio smartphone, che credo non sia il più preciso del mondo assolutamente, ma è lo stesso in entrambi i test, e vi fa capire come, prima con le ventole di Alphacool, si avesse una rumorosità. Abbiamo praticamente la rumorosità base del computer. Adesso sto parlando ed è normale che la voce vada a influenzare il fonometro. Più o meno è questo. E adesso vedo di far partire Cinebench e vediamo la differenza. E poi come con le ventole di Be Quiet, specialmente quando io non parlo, attenzione, la rumorosità base era decisamente molto più bassa rispetto a prima. Ed ecco qua un pochettino come si comporta il PC con le ventole di Be Quiet. Vedete che quando parlo ovviamente i decibel salgono, ma in idle... Io ora faccio partire Cinebench. Quando vi dico che il PC sia sotto carico sia in idle è molto più silenzioso, adesso ho praticamente qualche dato che ve lo dimostra. Ad ogni modo, su Cinebench con le ventole stock 76.5 gradi sulla CPU e 44.3 sulla GPU. Invece con le ventole di Be Quiet 79.4 sulla CPU e 47.6 sulla GPU. Sì, era tutto un po' più caldo. C'è da dire che però, dopo che ero stato a gioco a COD e si era fatto pomeriggio ormai inoltrato, la temperatura era più alta, la temperatura dell'aria era proprio più alta, quindi avere 2-3 gradi in più su qualche test... Sapete, non è che mi cambia la vita. Questo perché non esiste la ventola perfetta, ok? Esistono delle ventole che sono ottime in prestazioni e ventole che sono ottime in rumorosità. Queste qui di Be Quiet sono, secondo me, molto belle per quanto riguarda l'estetica. Sono davvero molto eleganti. Sono estremamente silenziose e hanno delle buone prestazioni. Non ottime prestazioni, io dico semplicemente buone. Ma fondamentalmente le Light Wings sono un pacchetto completo per chi cerca rumorosità, buone prestazioni e comunque un PC elegante dal punto di vista dell'estetica. Fondamentalmente non mi posso assolutamente lamentare. Vi ripeto, avere 2-3 gradi in più su qualche test sintetico con questo tempo, perché fuori da me praticamente io sto sudando, ci saranno 27 gradi. E oltretutto nella mia stanza comunque il PC butta aria calda all'interno della stanza, quindi non c'è un riciclo d'aria tale da permettere ai componenti di stare freschi, penso che queste ventole facciano un lavoro veramente, veramente greggio. Ma soprattutto ho notato una cosa. Ce l'ho da un giorno e mezzo sul PC, io ho meno mal di testa quando sono al PC e quando ho le cuffie. Perché dovete sapere una cosa. Quando si indossano le cuffie, specialmente queste che sono le Arctic Pro Wireless di SteelSeries, io prima con le vecchie ventole sentivo il fruscio dell'aria comunque rimbombare all'interno dei padiglioni e questo mi causava in effetti un po' di mal di testa. Con le nuove ventole di Be Quiet che ho montato ieri, no, non ho avvertito questo problema, quindi... Beh, perfetto. Questi sono i dati, queste sono le ventole. Non mi resta che ringraziare Be Quiet per avermi fatto provare queste ventole fantastiche. e sarò solo un po' rompiscatole e montarne 6 con 24 viti su due radiatori di 360 mm, ma sapete com'è, come si dice, it's the nature of the beast. E nulla, vorrei praticamente essere ricoperto da queste ventole io proprio addosso in questo periodo dell'anno perché davvero si muore di caldo. Voi cosa ne pensate di queste ventole? Vi piacciono dal punto di vista estetico? Che ne pensate delle prestazioni? E soprattutto in descrizione c'è un link affiliato dal quale poter acquistare queste ventole. perché tre di queste ventole con l'hub a RGB che potete collegare alla scheda madre, beh, non vengono a costare tanto. Per cui sono stra, stra, stra consigliate. E non vedo l'ora di assemblare un PC tutto Be Quiet, quindi potenzialmente silenzioso, con queste ventole, magari col Dark Rock Pro 4. Oh mamma mia, la mia testa sta veramente viaggiando. Sto veramente immaginando cose. Grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.